Oggi abbiamo stretto un importante patto di collaborazione con l'Italia Animalista. L'abbiamo fatto perché Azione e Italia Animalista condividono un principio che è quello del benessere animale. Insieme alle centinaia di volontari e gli amministratori locali faremo delle azioni concrete per combattere maltrattamenti, uccisioni, abbandoni. Lo faremo a partire dal sindacato ispettivo, cioè interrogando il governo in tante situazioni che mettono in difficoltà gli animali in tutto il territorio nazionale. Lo faremo aumentando, cercando di aumentare i fondi per la ricerca alternativa. Lo faremo supportando la legge contro il randagismo e lo faremo portando delle emozioni in tutti i comuni in cui siamo presenti per l'istituzione del carattere degli animali nei comuni italiani. Ecco, queste sono alcune delle sfide che ci aspettano nei prossimi mesi, convinti di tutelare i diritti degli animali e di tutti coloro che si occupano.